la carta prepagata per i minorenni e non solo si può attivare dai 12 anni in su con il piano hype start che ha un costo gratuito sia per l'attivazione che continuamente fino al compimento dei 18 anni che va usato un hype plus che costa 12 euro annui che però hanno un po di diversità minime sul fatto di quanti soldi puoi prendere durante l'anno poi hanno fatto anche hype premium che ha un costo di attivazione di 9,90 euro però fino al 30 giugno l'attivazione è gratuita e lì puoi prendere stipendi puoi prendere pensione tutto quello che vuoi e è composta da un IBAN che puoi utilizzare anche da minorenni quindi c'è su tutti i tre i piani grazie a questa carta mi sono salvata varie volte per il fatto che non riuscivo a pagare in contanti allora tiravo fuori e versavo usavo il contactless grazie al telefonino perché è dotato di un'applicazione che ti permette di sapere quanto devi pagare quanto hai da spendere ti può fare fare dei risparmi e anche ti dice bene o male dov'è che hai speso questi soldi e caricare questa carta si può fare in tre modi con un'altra carta nella quale hai commissioni però è immediato bonifico che non hai commissioni però ci mette uno due giorni e con tanti che è immediato però con delle commissioni poi c'è la funzione del cashback che quindi tu tramite l'applicazione vai su un sito internet dove vuoi comprare una determinata cosa che ti può servire da assicurazioni tecnologie tipo un cellulare oppure viaggi qualsiasi cosa ti danno di ritorno una commissione tipo che varia dal 2 fino anche al 10 per cento nella quale ti ritornano dietro una parte dei soldi spesi quello che sto facendo io quindi io ti do il mio link e tu ti riceverai 10 euro di bonus potrei farlo a tua volta con i tuoi amici perché se tu ti fai hype tramite il mio link ricevi 10 euro però avrai anche tu il tuo link da poter inviare ai tuoi amici in modo tale che loro ricevono i bonus di 10 euro invece se tu sei riuscito a convincere 5 amici riceverai un buono di 50 euro che a lungo andare se tu continui a invitare amici continuerà ad aumentare fino ad avere anche un bel po di soldi da spendere su Amazon per te la carta hype potrai prelevare soldi a qualsiasi ATM quindi tu puoi andare non lo so in piazza andare all'ATM prenderti la cartina lei mi metti dentro e dovrai mettere il codice devi guardarlo dall'applicazione quindi è obbligatorio che tu abbia l'applicazione vai sulla sezione carta e da lì girerai la carta con l'apposito tasto in alto a destra e lì potrai vedere il tuo pin per prelevare i soldi spero che il video ti sia stato utile e soprattutto se hai qualsiasi domanda o dubbio ricordati di scrivermi nei commenti in modo tale che potrò aiutarti e supportami con un like alla prossima